In acqua mi sentivo bene, ho faticato un pochino alla fine, però ho cercato di stringere i denti perché non volevo farmi perdere questa opportunità. Ripeto, non in campo individuale perché ormai i due posti sono già stati assegnati, ma siccome c'è la possibilità della staffetta Missa, volevo dimostrare al CT, ma soprattutto anche a me stessa, che il lavoro che abbiamo fatto dopo gli assoluti è stato buono e positivo, quindi sono pure soddisfatta.